Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod Due settimane fa ho fatto un video in cui vi informavo del fatto che il mio Galaxy S2 era andato in brick Probabilmente a causa dell'hard brick bug Per chi se lo fosse perso lo trovate in descrizione oppure qui in sovrimpressione In ogni caso l'ho portato a vedere e mi hanno detto che si tratta di un problema di scheda madre bruciata Che vorrebbe dire per rimetterlo funzionante 200 euro di spesa circa E quindi per un telefono che ormai aveva più di due anni non conveniva Per questo ho preso un nuovo dispositivo e cioè nuovamente un Galaxy S2 Sicuramente alcuni di voi speravano in un cambio Galaxy S3, Nexus 4, qualcuno aveva anche proposto il Note 2 Tuttavia ho iniziato con questo e vorrei portarlo avanti anche nel caso prendessi dispositivi differenti In più ho ancora un sacco di ROM, MODS e altro per S2 da recensire E quindi mi sarebbe dispiaciuto abbandonarlo lasciando il lavoro a metà E poi l'ho trovato a un prezzo ragionevole quindi ottimo Ah tra l'altro faccio una piccola parentesi in quanto con il nuovo S2 ho anche preso una batteria maggiorata da 2000 mAh Quella originale Samsung E devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito Secondo me il dispositivo perde leggermente in estetica in quanto è più spesso Qui in basso in corrispondenza del microfono siamo allo stesso livello del resto della scocca Saranno uno forse due millimetri in più Tuttavia questo spessore in tasca non si sente assolutamente e in compenso il dispositivo guadagna in autonomia Con un uso intenso io per il momento sono sempre arrivato a fine giornata e quindi un ottimo acquisto Ok chiusa la parentesi in ogni caso io nelle video recensioni continuerò a riferirmi parlando della gestione energetica Alla batteria classica da 1650 mAh in quanto le ROM le testerò anche con quella Quindi la prossima settimana ricominceranno le recensioni e ci sarà quella della ROM AOKP che stavo testando due settimane fa Un paio di altre cose Prima di tutto importantissimo vorrei ringraziare in modo particolare due utenti Il primo ha effettuato una donazione contribuendo così a questo progetto e aiutandomi nella spesa che ho dovuto sostenere Il secondo si è invece offerto di aiutarmi con le video recensioni quindi girando dei video Questi due gesti mi hanno fatto veramente molto molto piacere e quindi grazie a tutte e due In più ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e incoraggiato durante questa avventura non proprio positiva del brick del dispositivo Per i prossimi modelli a questo punto ci vorrà ancora un po' di tempo in quanto i soldi che erano destinati a quelli ho dovuto incanalarli per ricomprare un Galaxy S2 E quindi ci vorrà ancora un attimo Ultima cosa la playlist del canale Tutorial e altri video diventerà Tutorial e Video Flash In quanto oltre appunto a caricare eventuali guide e tutorial D'ora in poi ci metterò anche dei video in cui vi mostro applicazioni che normalmente non recensirei Un esempio di questo tipo di recensione se possiamo chiamarla così è quello che ho fatto qualche settimana fa dedicato a Dynamic Keyboard Una tastiera alternativa Normalmente non farei un video interamente dedicato a una tastiera perché non merita Questi invece Flash saranno appunto dei video veloci magari neanche parlati solo con la musica di sottofondo In cui vi mostrerò un'anteprima generalmente di un'applicazione in modo che possiate rendervi conto prima di scaricarla o acquistarla Di come gira, come si presenta, come si comporta su un dispositivo eccetera Questi video non andranno ad influire sugli altri e non avranno una cadenza precisa Quindi tutti i sabati continueranno ad esserci le recensioni In più se se ne presenterà l'occasione girerò questi Per esempio esce una nuova tastiera alternativa o un gioco particolarmente atteso Giro un video Flash in cui vi mostro come si comporta la tastiera, quali sono le funzioni principali Oppure parti di gameplay, impostazioni del gioco, aspetto eccetera Perfetto, questo per oggi è tutto Mi raccomando ricordatevi di mettere un bel mi piace e condividere i miei video per aiutarmi a crescere E per qualsiasi cosa chiedete pure nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video Ciao a tutti